Un nuovo cantiere sulla E45 è nel tratto tra Sansepolcro e il confine Umbro. ANAS ha consegnato all'impresa esecutrice l'intervento sulla carreggiata in direzione Roma per un investimento di 2,7 milioni di euro. I lavori saranno avviati nei prossimi giorni e si aggiungono ai tratti già risanati lo scorso anno sulla carreggiata in direzione Cesena. Nel dettaglio, nel tratto in questione, inserito nel piano di fabbisogni 2018-2021, il progetto è stato redatto a maggio 2019 ed è poi seguito l'iter di verifica, approvazione e affidamento fino alla consegna avvenuta in queste ore. Nelle more dell'esecuzione dei lavori, lo scorso luglio ANAS aveva provvisoriamente istituito il limite di velocità a 70 km orari che sarà eliminato al termine degli interventi. I lavori consistono, analogamente agli altri tratti già eseguiti, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel rifacimento degli strati di fondazione e nella realizzazione ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. La durata prevista è di 100 giorni con la sospensione nel periodo invernale. I lavori di risanamento profondo della pavimentazione sono previsti dal piano di riqualificazione dell'itinerario E45, avviato da ANAS nel 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro. Si tratta del più importante investimento mai destinato a questa infrastruttura e riguarda il risanamento profondo della pavimentazione, l'ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento di ponti viadotti, l'adeguamento degli impianti tecnologici in galleria e altri importanti interventi per il miglioramento della sicurezza e della circolazione.